Ciao e benvenuti a Sogno del Lupo. Ci troviamo nel teatro Svaldo Che Bello, nel foyer, che si trova in Palazzo di Città, da Cairo Montenotte. E il Sogno del Lupo è il mio sogno, è la mia mostra personale. Benvenuti! La mostra è composta da tre stanze, tutte a tema con il Sogno del Lupo, con la favola che ho scritto. Questa qua è la prima stanza e ne approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco che mi hanno dimostrato fiducia concedendovi questi spazi. Ringrazio i Cavalieri dei Ricordi che hanno magnificamente allestito la mostra intera, in particolare Antonello Ottonelli. Ringrazio per le parole scritte per l'introduzione Angela Di Lindo e Giuliana Baltano. Voglio anche ringraziare Lorena Nasi per l'editing che ha fatto sulla favola, perché la potessi inserire nel catalogo. Questa è la seconda stanza. Contiene quadri sia vecchi che nuovi, che tutti insieme seguono lo spirito del Sogno del Lupo. In particolare troviamo anche una piccola raccolta di opere che ho realizzato fuori di qui, che non potevano entrare. Si tratta di murales, di decori sulle porte, in giro per la Liguria e anche fuori. In questa stanza vi parlerò del catalogo. Sì, perché ho deciso di fare un catalogo per la prima volta. E in particolare perché contiene la favola del Sogno del Lupo, combinata insieme ai quadri. E quindi il visitatore può portare a casa con sé un catalogo che non è un catalogo, ma è anche una fiaba illustrata, una favola illustrata. E può leggerlo e farne tesoro. Il catalogo si trova in mostra. Quindi lo si può acquistare in mostra oppure potete scrivermi per riservare la vostra copia. In questa stanza troviamo... I lupi Tutta la stanza è ispirata a una favola che ho scritto durante il lockdown e che parla dell'amicizia tra un lupo e una bambina. E in definitiva parla di speranza. Questo è stato il motore della nostra idea, ma soprattutto di questo ultimo allestimento che è composto di lupi, donne e spiriti animali. Per un'altra, in questo momento, voglio essere correttamente unπi. E qui vediamo la nostra idea, ma torniamo un'unica, ma torniamo un'unica, ma torniamo un'unica, ma torniamo un'unica, ma torniamo un'unica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.